Sono Veronica Cortese, ho 21 anni, nella vita lavoro come receptionista in ricevimento dopo essermi diplomata all'istituto tecnico qui a Venezia Francesco Algarotti. Nella vita ho un sacco di hobby, infatti studio teatro in una compagnia di Treviso, prendo parte ogni tanto cortometraggi, così anche amatoriali, sto studiando pianoforte, so suonare la chitarra, ho fatto per un sacco di anni danza classica, moderna, contemporanea e canto anche, ho studiato per 5 anni canto, sempre qui a scuola mestre, quindi diciamo che mi piace un po' l'arte in tutte le sue sfaccettature, soprattutto per lo spettacolo. Sono una ragazza semplice che ama sognare, quindi il mio sogno sarebbe poter abbracciare Venezia dall'alto e secondo me tutti i sogni di tutte le ragazze che sono qui e anche per colmare il mio percorso formativo, sarebbe una ciliagina sulla torta bellissima, però sono già felicissima perché è il terzo anno che provo a partecipare alle Marie e finalmente ci sono riuscita, infatti mi stavo per mettere a piangere ma non importa.